D'accordo. Di quel nastro ho fatto una copia. La registrazione del porto? Sì, ma non ho cancellato l'originale. Ce l'hai ancora? Più o meno. Più o meno? Ce l'ha Carla, ma non voglio che lei... Si può sapere perché, diavolo, ce l'ha questa Carla! Ma scusami, mi dispiace, non volevo arrabbiarmi. Oh, no! Ma che ti prende? Il braccialetto. Sei stata tu, vero? Sei tu. Non dovresti sorprenderti. Perché? 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 Quelli erano parassiti. Erano solo dei bastardi. Rappresentavano la feccia della società. Pensavano solo a succhiare la vita ai bambini. Distruggevano la loro innocenza. Ti stavano distruggendo anche te. E non potevo stare a guardare senza impedirlo. L'ho fatto per te, l'amore mio. Tu hai perso la testa, sei pazza. Non ti permettere di parlarmi così. Perché hai voluto incastrarmi? Io non volevo incastrarti. Non sapevo che tu eri al porto. Ma non importa. Perché posso ancora sistemare tutto. Prima dimmi che torneremo insieme. Che cos'è quella? Devo pur nascondere le mie cose da qualche parte, non credi? Ricordati che non puoi farla, Franca, con tre omicidi alle spalle. Non sei la persona adatta per farmi la predica. Tu sei contento quanto me che siano morti. Sì, può anche darsi, ma io non ti ho mai chiesto di uccidere nessuno. No. No, non l'hai chiesto a parole, ma... Lo sapevo. Ho recepito il messaggio. Perché fra noi c'è un legame speciale. Non c'è più niente fra noi due. È per Carla, vero? No! Lasciami! Fermi! È finita! Stazzite! Stazzite a te! Frank, lasciala stare! Non fermo, lasciala! Non lasciatela andare! Ehi! Me l'ha detto lei! Ehi! Non fatela andare via! Moredizione! Tutto bene? Sì, sì, sì. Sto bene. Perché sei entrata? T'avevo detto di aspettare. Mi dispiace, sono stata una stupida. Credevo di essere utile. Che è successo? Mi lascia! Mi ha dato questa. Allora? Mi ha detto di aprire una certa cassetta di sicurezza e buttare via tutto. Io gli ho detto che non lo potevo fare. Un attimo dopo... Dirò a Schneider di controllare. Non so che sia assurdo, dovete credermi. Li ha uccisi tutti io. Me l'ha detto lei adesso. Va bene, va bene. Adesso ti lascia. Lasciami! Sì? Carla? Sono Ivo Weingart. Ivo? Frank mi ha detto che ha la cassetta. Come mai gliel'ha detto? Vuole che venga lì a darle una mano. Ci sta ancora lavorando? Ecco, non ho ancora finito. Arrivo subito. Va avanti, continua. È ossessionata da me. Crede che uccidendo quegli uomini saremmo tornati insieme. Hai una grande opinione di te stessa. Sì, è maledetto, Glass. E va bene, stami a sentire. Carla ha il nastro, ma dovete far presto. Dovete arrivare da lei prima che ci vada Ivo. Intendo convocare Carla a Opry. Ma prima vediamo cosa trova Schneider nella tua cassetta. La cassetta è di Ivo! Perché continui a mentire? Perché non racconti tutto? Ti sentiresti meglio. Ora basta, mi hai stancato. Voglio parlare con Werner. No, è stato sospeso.